Sono giorni che ci penso e vorrei incontrarti ma non si può Sono ore lunghe ore passate solo ad aspettare che qualcuno sappia dire qualcosa che faccia sperare che questa maledetta storia sia sul punto di finire e insieme finalmente noi domani torneremo a uscire a incontrarci per le strade con un tempo in un locale con un sogno, una birra in mano e una strana gioia qui nel cuore che è difficile da capire perché sembra sia normale ma da questi giorni qui tutto sarà un po' speciale e intanto noi restiamo a casa così in quel cassetto molti libri ed un bel film facciamo finta che là fuori piove e che quel sole tarda ad arrivare ma è solo tempo da rispettare e che ne dici, che ne dici, potremmo fare l'amore approfittiamone per ricordare quanto è importante la vita insieme e poco tempo, sì, c'è solo da aspettare e ti giuro, ti giuro, torneremo a fare l'amore per ora resta a casa qui con me per ora resta a casa fallo per te e per me e per te e per me per tutti noi